incendio a villabetti a fuoco il tetto di un'abitazione evacuate due famiglie terminate le final eight di coppa italia la carpegna prosciutto basket pesaro fermata alla finalissima impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo la rabbia dei gestori delle stazioni covid basso il numero di tamponi e di nuovi positivi termina lo screaming alla don gaudiano una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale subito in apertura parliamo di cronaca per parlarvi di un incendio che ha interessato questa mattina la frazione pesarese di villabetti dove verso le 10 30 ha preso il fuoco il tetto di un'abitazione privata composta al suo interno da due appartamenti gli ingenti danni provocati dalle fiamme generate dalla canna fumaria della casa hanno reso l'abitazione inagibile fortunatamente le persone residenti all'interno dello stabile due famiglie sono riuscite prontamente ad uscire dalla casa e a non riportare danni fisici o da intossicazione tanta però la paura e lo spavento per domare le fiamme sono stati necessari diversi mezzi e squadre dei vigili del fuoco impegnate sul posto nelle tarde ore della mattinata e ora cambiamo decisamente pagina perché il primo servizio di questa nostra edizione del telegiornale dedicato allo sport per raccontarvi la grande impresa firmata prosciutto carpegna basket pesaro che ha conquistato il secondo posto alle final eight di coppa italia il sogno è sfumato soltanto all'ultimo nella finalissima contro milano come vi raccontiamo in questo servizio si è fermata all'ultimo match quello che la vedeva impegnata contro milano la scalata della carpegna prosciutto basket pesaro nell'edizione 2021 delle final eight un sogno interrotto soltanto alla finalissima dove pesaro è stata sconfitta per 87 a 59 ma che ha regalato gioia ed emozioni a tutti i tifosi biancorossi che hanno potuto assistere ad un'impresa che non si vedeva da anni le vittorie contro sassari nella prima gara e brindisi in semifinale sono costate sudore e fatica ai ragazzi di coach repegia che si sono quindi aggiudicati il secondo posto nel torneo di coppa italia tra i biancorossi il miglior realizzatore della serata finale è stato tyler kane autore di 15 punti mentre henry drell è andato il premio come best offensive player delle final eight 2021 tante le dimostrazioni di affetto manifestate dai tifosi a partire dagli striscioni dedicati alla squadra fino ai messaggi e alle immagini diventate virali sul web per omaggiare il lavoro svolto da coach repegia e dalla sua squadra proprio repegia nel post partita contro milano si è complimentato con i ragazzi per il traguardo raggiunto vorrei fare complimenti i miei ragazzi mia squadra i miei giocatori e tutta la società tutto sta bene con me e tutti quanti per come siamo stati qua con una squadra vera tutte le stagioni e per lavoro che abbiamo fatto uguale non sono non solo tre giorni fa uguale fino adesso e questi cinque mesi e come gli ha detto detto studiattori dobbiamo andare avanti così orgogliosi si dare se stessi il giorno e proprio competere contro ognuno tra i sostenitori d'eccezione che hanno accompagnato la squadra in queste importanti giornate di competizione anche il sindaco di pesaro matteo ricci e l'assessore con delega allo sport mira della dora grande l'entusiasmo manifestato per il risultato raggiunto anche dal presidente del consorzio pesaro basket luciano amadori siamo sicuramente un metro sopra il cielo a un dito dal paradiso se vogliamo dire così ieri c'è stato un po' rompete le fila perché finita la partita il coach è salito in macchina ed è tornato a casa sua e quindi sono tornati nel pullman i giocatori con Walter Magnifico e poi e poi e poi insomma però finita la partita nello spogliatoio insomma potete immaginare è stata molto molto tosta la cosa perché giocare sempre la seconda partita e poi una con un supplementare le cose poi sono andate sempre alla lunga arrivavano arrivavano in hotel tardi per mangiare dormire poi chi doveva fare l'anti doping non era semplice arrivavano ancora più tardi insomma è stata molto 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 difficile per i ragazzi per la gestione generale però direi che è andata molto bene giovedì la puntata di insieme a canestro sarà una puntata non propriamente popolata da ragazzini ma tutta popolata da personaggi che hanno fatto la storia di pesano nel basket ovviamente e hanno fatto non hanno vinto a caso delle coppe italia vuoi farci l'elenco di chi sarà ospite giovedì beh intanto porteremo la coppa e questo è il primo ospite assolutamente poi per non essere il più anziano porteremo franco pertini che chiaramente fa parte della storia l'enciclopedia vivente della nostra società e della pallacanestro italiana della pallacanestro italiana porteremo i due alfieri walter e walter magnifico e ario costa quindi insomma penso che sarà una bella puntata racconteremo quello che è successo quello che avete visto e quello che non avete visto nel dietro le quinte parleremo anche di delle coppe precedenti e quindi come ricordato a fine del servizio vi invitiamo a non perdere la prossima puntata di insieme a canestro focus sulla carpegna prosciutto basket pesaro il programma targato rossini tv che il prossimo giovedì vedrà ospiti il presidente del consorzio pesaro basket luciano amadori il presidente della vl ario costa il brand ambassador vl walter magnifico e infine l'ex giocatore e giornalista franco bertini l'appuntamento con marco cadedua la conduzione quindi è per giovedì alle 21 e 15 e alle 22 e 30 e ora voltiamo pagina e torniamo a parlare degli aggiornamenti covid sul territorio regionale con i dati forniti dal servizio sanità della regione marche che ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.120 i tamponi 601 nel percorso nuove diagnosi di cui 106 nello screening con percorso antigenico e 519 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 21,3 per cento basso quindi il numero di test effettuati come poco elevato risulta essere il numero di positivi rintracciati sono 128 i casi nel percorso nuove diagnosi con solo 5 di questi riscontrati nella provincia pesarese 12 invece i decessi segnalati ieri sera a livello regionale con due vittime che risiedevano nella provincia pesarese e parlando ancora di covid dopo lo screening effettuato nel presso della scuola di via fermi anche alla media Don Gaudiano si è provveduto nella giornata di sabato ad effettuare tamponi a studenti e docenti visto che tre classi dell'istituto si trovavano in quarantena su circa 500 test effettuati però come riferito dall'Asur non è stato riscontrato alcun caso positivo al covid-19 una buona notizia quindi visto che alcuni studenti della scuola si erano inoltre sottoposti a tampone recandosi al poliambulatorio Igea Policlinica successivamente sequestrato dai carabinieri e ora parliamo della chiusura prorogata che riguarda gli impianti sciistici fino al prossimo 5 marzo la decisione è arrivata ieri a poche ore dalla data di riapertura delle stazioni che nelle ultime settimane si erano quindi preparate per poter riaprire in sicurezza rabbia e mancata comprensione delle tempistiche emergono dalle parole dei gestori degli impianti e dai sindaci dei comuni coinvolti come sentiamo nelle prossime interviste è una cosa indecente quella di rimandare la sera per la mattina l'apertura di una stazione scistica proprio non hanno idea di quello che vuol dire aprire una stazione scistica sono giorni e giorni di preparazione che noi abbiamo dovuto comprimere chiaramente nell'ultima settimana perché anche la notizia della riapertura era stata data una settimana fa alla certezza quindi abbiamo dovuto non solo affrontare tutte le spese per riaprire ma queste spese sono state aumentate dal fatto che abbiamo dovuto chiamare più personale per fare tutto il lavoro in poco tempo e alla sera per la mattina hanno deciso di chiudere tutto quindi oltre le spese che abbiamo avuto per riaprire abbiamo anche il danno chiaramente che non si può fare niente fino al 5 di marzo e quindi la stagione praticamente negli appennini a marzo è conclusa il danno economico sono decine e decine di migliaia di euro se si considera tutta la stagione se parliamo solo del danno invece dell'ultima settimana che ci hanno detto di riaprire, di prepararci e poi così non è stato stiamo parlando comunque di decine di migliaia di euro perché per preparare le piste noi abbiamo anche il Finderland per i fondini il rifugio e tutta la macchina che si mette in muoto potete capire da soli quante spese ci sono per preparare una cosa del genere Chi prende determinate decisioni dovrebbe anche conoscere meglio il settore il lavoro che c'è dietro l'impianto sciistico perché non è come accendere un autobus pronti via qui purtroppo ci sono giorni e giorni di lavoro prima di mantenimento e poi l'attività viva ma la scelta di chiusura sicuramente porta ancora più difficoltà a chi già lo era, questo settore soprattutto perché quest'anno non ha lavorato per niente perché comunque si spendono dei soldi per preparare le piste per preparare l'impianto e quindi questa decisione così all'ultimo non si può comunicare la domenica per il lunedì quindi bloccare la situazione degli impianti non porta solo direttamente problema a chi ha l'impianto perché comunque ristoratori vicini, bar, qualsiasi attività comunque fa delle scorte diverse rispetto a una domenica normale senza un weekend normale senza sciatori e quello appena trascorso è stato un fine settimana che ha permesso ai residenti della provincia pesarese di vedere scendere i primi fiocchi di neve anche a bassa quota tante le foto e i video che i telespettatori ci hanno inviato che abbiamo condiviso sulle nostre pagine social e che vi mostriamo ora in questo prossimo servizio Il preannunciato calo delle temperature che ha preso il via nel fine settimana appena trascorso ha permesso ai residenti della provincia di Pesaro e Urbino di assistere alla caduta dei primi fiocchi di neve sul territorio anche a bassa quota La situazione è sempre rimasta sotto controllo sia in città dove l'imbiancata è stata appena accennata sia nei comuni limitrofi che nell'entroterra dove nonostante le precipitazioni siano state più abbondanti non si sono registrate particolari criticità Sabato mattina, Monbaroccio, Montegaudio e Urbino si sono risvegliati con qualche centimetro di neve che copriva le strade come loro anche i comuni di Scotaneto, Monteguiduccio e Sant'Angelo e Lizzola Diversi mezzi spargisale predisposti nei centri abitati che sono intervenuti per favorire la circolazione dei mezzi nei tratti più colpiti dalle precipitazioni e per scongiurare la pericolosità delle strade ghiacciate La neve ha poi lasciato spazio al maltempo e alle forti raffiche di vento che si sono scagliate in città soprattutto tra sabato e domenica Diversi gli interventi in zona mare dei Vigili del Fuoco che oltre per la rimozione di alcune piante e rami pericolanti hanno operato in Viale Trieste all'altezza di Via Leonardo da Vinci dove un palo della luce è caduto colpendo l'insegna dell'hotel Ambassador e finendo sulla tettoia del gazebo del bar sottostante Fortunatamente il danno non ha interessato persone e la strada è tornata alla normalità poco dopo l'arrivo dei Vigili Ed è partito questa mattina un nuovo progetto a cura della Olus Gulliver per la cura e la manutenzione del verde a casa Ail Sentiamo i dettagli di questa collaborazione raccontati nelle interviste realizzate da Andrea Sabatini Sì, la collaborazione di Gulliver e Ail continua continuano tutti i lunedì mattina una volta a settimana i volontari di Gulliver e Ail saranno presenti qui a casa Ail per la cura della pulizia del giardino e intorno alle case una collaborazione bellissima io ringrazio il presidente Massimo Serra dell'Ail perché ci ha permesso di espandere la nostra attività di volontariato sono molti volontari e l'invito che lanciamo con Rossini TV che chi abita la muraglia vicino vuole darci una mano noi saremo qui il lunedì potete venire con noi, aiutateci, aiutiamo la comunità sociale e ambientale che comunque Gulliver si occupa di ambiente si occupa di sociale Ail, sapete tutti quanti chi Ail devo spiegarlo io quindi l'unione delle due associazioni crea nuove opportunità di volontariato e nuovi progetti in città Certo, una collaborazione che sta prendendo veramente forma anche grazie alla stupenda giornata siamo stati molto fortunati e questo lascia ben pensare in un futuro giornata soleggiata più di così non si può Di progetti con Andrea Boccanegra il presidente e la Gulliver in particolare ne stiamo studiando più di uno il primo, nell'immediato sarà quello di riutilizzare uno spazio che abbiamo qui all'interno del villaggio dove verrà creata una sala di aggregazione non solo per i nostri pazienti ospiti ma anche per i familiari dove si potrà leggere un buon libro conversare, guardare la tv e tutto questo spazio grazie a Gulliver verrà rimesso a nuovo con tinteggiature cose particolari che riguardano appunto questa collaborazione riguardano soprattutto la malattia per cui i nostri pazienti sono qui però renderemo queste immagini molto più diciamo creative non da spaventare ma da creare gioia La provincia di Pesaro Urbino e Cassa Depositi e Prestiti hanno firmato un protocollo d'intesa attraverso il quale quest'ultima offrirà un servizio di assistenza per la realizzazione di alcuni progetti legati all'edilizia scolastica in particolare la collaborazione riguarderà la realizzazione delle nuove sedi degli istituti Nolfi ex Carducci di Fano e Raffaello di Urbino insieme alla realizzazione della nuova palestra del convitto e del blocco aule dell'istituto agrario Cecchi di Pesaro e ha recentemente preso avvio il progetto disegnato dal comune di Cartoceto e finanziato dalla regione Marche per dare un volto nuovo e tecnologico alla biblioteca Ciscato l'obiettivo è quello di promuovere una fruizione della biblioteca da parte di tutti i cittadini e in particolare dei giovani grazie anche all'installazione di un sistema digitale multicanale grazie al quale sarà appunto possibile condividere contenuti senza l'utilizzo di cavi e interagendo con le apparecchiature audio e video della sala le guide turistiche residenti a Pesaro in occasione della giornata internazionale della guida turistica che si svolge ogni anno in tutto il mondo il 21 febbraio proporranno nella loro città un'iniziativa dal titolo in itinere 5 brevi generali tematici ognuno condotto da una guida diversa in una sorta di staffetta attraverso i luoghi storici cittadini per partecipare è necessaria la prenotazione contattando il numero 335-6144-241 e il ritrovo sarà in piazzale della libertà alle ore 10 nel giorno del suo compleanno Pesaro città creativa unesco della musica ha deciso di ricordare il musicista dei Brothers in Law Andrea Guagneli in arteguagno scomparso lo scorso anno a 33 anni durante una cerimonia che si è svolta sabato mattina gli amici hanno firmato il ritratto in gesso realizzato da Rossella De Stefani che è stato poi esposto nel portale di Palazzo Mazzolari Mosca dove rimarrà appunto per alcune settimane per poi passare nelle sale del circolo Mengaroni alla sua riapertura e sempre in questo fine settimana i rappresentanti comunali e regionali di Fratelli d'Italia si sono ritrovati al parco di Trebbiantico per commemorare con una breve cerimonia la tragedia delle foibe ha seguito per noi questo momento Marco Cadeddu siamo qui a Trebbiantico come ogni anno per ricordare un giorno importante della nostra storia una storia che deve essere assolutamente ricordata e non oscurata come è successo per tantissimo tempo noi ci siamo qui e quest'anno ci saremo sempre perché merita questo cippo questo ricordo di questo giorno molto particolare molto importante per noi e come sempre come Fratelli d'Italia siamo qui a onorare i caduti a onorare queste persone che avevano solamente una colpa avere la colpa di essere italiani siamo qui per celebrare il giorno del ricordo il ricordo legato alla tragedia degli istriano Giuliano Dalmati che dopo la guerra a guerra finita vennero trucidati e gli venne tolto ogni cosa questo perché volevano restare italiani dopo tanti anni di oblio finalmente qualche anno fa venne istituito il giorno del ricordo ecco questa tragedia non deve essere dimenticata perché non avvengano più cose del genere quindi noi ogni anno celebriamo questa giornata che è sentita da tutti noi perché è rivolta a fratelli italiani che hanno perso tutto che sono stati uccisi trucidati buttati nelle foibe si parla di 30.000 infoibati e di 350.000 persone alle quali sono stati tolti tutti i loro veri e sono venuti qua in Italia sono stati accolti anche in maniera a dir poco malevola cioè sono stati insultati sono stati chiamati fascisti quando volevano essere soltanto italiani volevano mantenere le loro radizie è per questo che noi siamo qui a celebrare a ricordare e a commemorare queste persone e si è riunito a Pesaro lo scorso venerdì l'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente il dialogo sul futuro dell'economia regionale si è focalizzato sul settore casa e arredo e la sede che ha ospitato il primo dei cinque tauri di lavoro tematici è stata la storica azienda del pesarese Scavolini vi racconteremo nel dettaglio e in prima serata questo importante evento mercoledì alle 21.15 ma nel frattempo sentiamo qualche anticipazione con le interviste al presidente e al vicepresidente della regione Marche Francesco Acquaroli e Mirko Carloni abbiamo una grande sfida davanti e da questa estate inizierà una trattativa un partenariato con l'Europa per i fondi per l'innovazione tecnologica per la specializzazione intelligente abbiamo definito delle aree tematiche su cui è più importante riteniamo trasferire innovazione trasferire ricerca e nuovi prodotti e quindi su questo insieme all'Europa faremo uno sforzo economico e finanziario quello che oggi abbiamo fatto qui a Pesaro e quello che faremo nelle prossime settimane è ascoltare le imprese coinvolti in alcuni settori specifici e cominciamo proprio qui da Pesaro parlando dell'arredo del mobile parlando della casa perché è uno di quei temi su cui si può fare trasferimento tecnologico fare ricerca fare innovazione per rendere più competitivi i prodotti riuscire a rafforzare le nostre imprese e aiutarle e stimolarle quantomeno in una crescita perché possano essere sempre più competitive sui mercati con un beneficio ovviamente anche del nostro territorio della nostra collettività Pesaro rappresenta un territorio importante a livello economico a livello di innovazione e di competitività di tutto il nostro tessuto industriale e noi dobbiamo ripartire cercando di potenziare nella nostra fase politica la capacità di produrre di trattenere il lavoro di riportare il lavoro e di internazionalizzare il prodotto questa è la sfida che noi vogliamo percorrere insieme ai marchigiani alle imprese marchigiane e soprattutto cercando di rimettere in questo momento difficile la capacità di sapere anche immaginare una grande ripresa il prima possibile credo che l'innovazione e la capacità di competere dipenda molto dal digitale e dall'intelligenza artificiale noi riteniamo strategico questo settore perché rende molto più competitivo già qualcosa che il competitivo lo era e lo è ancora abbiamo aperto questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport per raccontarvi l'impresa della Carpegna Prosciutto Basket alle Final 8 e chiudiamo questa edizione parlandovi ancora di sport per aggiornarvi sugli altri risultati delle squadre locali non è stato infatti un bel fine settimana quello della Vispesaro che nel match contro la Virtus Verona è tornata a perdere il risultato finale dell'incontro che si è svolto sabato al Mancini è stato di 1-0 per gli avversari ma i biancorossi sono pronti a scendere nuovamente in campo questo mercoledì contro la Triestina gioia invece per Little Service i ragazzi di Mister Colini nel match di sabato che Rossini TV ha trasmesso in diretta hanno vinto sul campo del Petrarca Padova per 2-1 e questi erano davvero gli ultimi aggiornamenti sportivi per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV questa sera alle 21.15 andrà in onda un nuovo appuntamento con palcoscenico Marche che vi racconterà Palazzo dei Principi di Carpegna questa sera come tutti i lunedì su Rossini TV alle 21.15 e poi mercoledì andrà in onda in diretta dal Duomo di Pesaro la celebrazione liturgica per il Mercoledì delle Ceneri che segna il primo giorno di Quaresima nel calendario liturgico cristiano potrete seguire con noi questo appuntamento in diretta mercoledì 17 febbraio alle 18.30 dal Duomo di Pesaro e l'appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata su Rossini TV